Signora, pillola. Ma cos'è successo? Non ricordo nulla. Patrick è portata a casa. Ha detto che è svenuta. In mezzo alla pista. E poi? Maricel è stata con lei la notte. Messa a letto. Dammi la borsetta. Devo fare una chiamata. Signora, quando eri entrata? Non aveva la borsa. Davvero?